Contannata per rapina, partorisce e non va in carcere. Il destino avverso di Lorenzo. Risse al parco Matusa. Bentrovati al Tg, una donna bulgara di 28 anni residente a Ceccano è stata condannata a due anni di reclusione per rapina ma non andrà in carcere, almeno per il momento. La scorsa settimana ha partorito una bambina e il giudice ha ordinato la sospensione dell'esecuzione della pena per un anno, al fine di permetterle di prendersi cura della figlia neonata. Finirà lo stesso dietro le sbarre ma nell'agosto del 2025. Lorenzo Papa, il ventenne di Frosinone morto nell'incidente stradale frontale sulla via Montilepini, non doveva essere alla guida della Peugeot 207 dei familiari dell'amico che sedeva al suo fianco, ma a quanto pare quest'ultimo aveva dimenticato la patente e gli ha chiesto di mettersi al volante. Sono state affidate intanto le perizie che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. Parco Matusa a Frosinone, teatro di risse tra stranieri e tra giovani nelle ore serali di fronte a bambini e famiglie. Dopo lo scontro a colpi di bottiglia in testa tra due uomini, nuova rissa con protagonisti in un gruppo di giovani che si sono presi a calci e pugni. Qualcuno avrebbe visto anche un coltello. Pochi minuti di confusione prima che un uomo che portava a spasso il cane ha telefonato ai carabinieri e fatto scappare a gambe levate i fascino rosi. Indagini in corso con la visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza. I carabinieri arrestano un rumeno di 21 anni prelevato in casa in via per Frosinone a Ceccano. Il giovane è accusato di aver ripetutamente violato la misura cautelare del regime degli arresti domiciliari. Incendio in abitazione in via Cervara a Torrice e le fiamme sono partite da un fornello della cuscina ma fortunatamente non si sono diffuse in maniera significativa anche per il rapido intervento dei vigili del fuoco. Meritato congedo dall'arma dei carabinieri per il luogotenente carica speciale Angelo Imperia che era capo del nucleo comando della compagnia di Anagni e per il brigadiere capo carica speciale Giovanni Tinelli della sezione amministrativa nel comando provinciale. Tre provvedimenti di avviso orale ad altrettanti uomini di Amaseno, Alatri e Veroli notificati da carabinieri e polizia con l'intimazione a comportarsi nel rispetto della legge. Grande successo per la recente esibizione della fanfara della polizia diretta dal maestro Massimiliano Profili in piazza Restituta a Sora. A risentirci, alla prossima edizione.